Controlli della Guardia di Finanza tra Napoli e provincia per verificare il rispetto delle misure anti-covid. Tra venerdì e domenica sono state controllate 862 persone, 141 attività commerciali, 34 le sanzioni complessive compresi i casi di contraffazione, contrabbando, traffico di rifiuti. In particolare per le misure anti-covid a Torre Annunziata sanzionati tre soggetti in strada oltre l'orario consentito e due bar mentre vendevano bevande pronte per l'immediato consumo all'esterno di un locale. Il gruppo pronto impiego tra i quartieri Vomero, Mergellina, Mercato ha sanzionato diversi cittadini sprovvisti della mascherina sorpresi in un comune diverso da quello della residenza senza comprovate esigenze, così come la stazione navale di Napoli che nelle acque antistanti l'isola di Capri ha multato un cittadino sorpreso in comune diverso da quello di residenza senza valide motivazioni. Ed ancora nell'area metropolitana la compagnia di Ottaviano ha sequestrato in un ingrosso di abbigliamento di San Giuseppe Vesuviano oltre 160.000 tra mascherine e facciali con marchi contraffatti di note griff come Dior, Gucci, Fendi, Whitton, Versace. La compagnia di Castellamare di Stabbia invece, sull'attivazione della sala operativa, ha constatato un assembramento di avventuri all'interno di un internet point, intimandone la chiusura provvisoria per i prossimi 5 giorni. La tenenza di Massalubrense invece ha sanzionato due giovani sorpresi in strada oltre l'orario consentito. Uno di loro è stato trovato in possesso di 8 grammi e mezzo di marihuana.